Al termine della messa per il giubileo dei ragazzi, prima della recita della regina Celi, Papa Francesco ha ringraziato i giovanissimi per la loro gioiosa e chiassosa testimonianza ed ha poi ricordato la beatificazione di ieri a Burgos, in Spagna, del sacerdote Valentin Palencia Marchigna e di quattro suoi compagni martiri uccisi per la loro fede durante la guerra civile spagnola, chiedendo di supplicare il Signore perché liberi il mondo da ogni violenza. Poi l'appello per sacerdoti religiosi sequestrati in Siria. E' sempre viva in me la preoccupazione per i fratelli vescovi, sacerdoti, religiosi, cattolici e ortodossi sequestrati da molto tempo in Siria. Dio misericordioso tocchi il cuore dei rapitori e conceda quanto prima a quei nostri fratelli di essere liberati e poter tornare alle loro comunità. Per questo vi invito tutti a pregare, senza dimenticare le altre persone rapite nel mondo.